Niente parcheggio coperto per il Natale, sono state più che confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni che hanno scatenato in malcontento dei commercianti che domani alle 11 si recheranno al Palazzo San Francesco per il faccia a faccia con il sindaco Gianfranco Di Piero. Nelle ultime ore, a margine di una riunione operativa, si sono spente le speranze sulla riapertura del Silos per le festività natalizie, come d'altronde è preannunciato da questa emittente televisiva. Gli uffici comunali procederanno ora a una gara di inviti per rivedere le auto nel parcheggio se ne parlerà verosimilmente nel nuovo anno. Per questo da Palazzo San Francesco stanno studiando il cosiddetto piano B. L'ipotesi più plausibile sarebbe quella di autorizzare la sosta delle vetture nell'anello della centralissima piazza Garibaldi con inevitabile ingolfamento di auto. Al momento tuttavia non vi sarebbe altra soluzione per evitare l'incremento della pressione delle vetture un po' ovunque. Su questo su altri punti i commercianti si confronteranno con il primo cittadino senza escludere azioni di protesta.